... Chiude in bellezza il 2019 la polisportiva a Santa Maria battendo 4-1 il Costa da Malfi. Prima del match arrivo delle mascotte di Topolino e Minni al Carrano insieme a Babbo Natale. E saluti e auguri da parte del presidente Francesco Tavassi ai sostenitori di Fede Giallorossa che anche questo pomeriggio non hanno fatto mancare l'affetto ai propri beniamini. Il match parte subito in maniera positiva per la polisportiva che vince e convince sfoderando una delle migliori prestazioni dell'anno. Infatti al settimo minuto su questo traversone di Capozzoli nel cuore dell'area di rigore della Costa da Malfi arriva il tap-in vincente di Coulibaly dopo il colpo di testa di Pellegrino sventato dall'estremo difensore della Costa da Malfi. Giallorossi dunque subito in vantaggio con il centrocampista. Ancora la polisportiva sempre sull'auto di destra con Capozzoli il suo traversone verso il centro dell'area di rigore ma la difesa della Costa da Malfi riesce in qualche modo a sventare la minaccia. La conclusione di Fernando è bloccata dalla portiere in maglia bianca. Sul rilancio di Grieco arriva ancora un'occasione importante per i giallorossi. Margiotta prova a mettere in movimento Pellegrino che viene fermato in area di rigore ma per il direttore di gara è proprio l'attaccante cilentano a commettere fallo sulla difesa in maglia. Dunque calcio di punizione per il Costa da Malfi. Una bellissima azione che parte sull'out di sinistra, attraversone di Desio, finta di Capozzoli e girata di Margiotta che fa esplodere il Carrano. Sempre lui il bomber dei giallorossi a siglare la rete del 2-0 che manda in visibilio il pubblico di Fede giallorossa. Ancora Margiotta ci prova dalla distanza ma stavolta è impreciso. Il Costa da Malfi si fa vedere su calcio di punizione ma il colpo di testa è alto sopra la traversa. Nulla di fatto si resta sul 2-0 per la Polisportiva Santa Maria. Ancora cilentani pericolosi, Pellegrino apre per Capozzoli. L'apertura ancora per Colibali, il cross e l'attacco di Pellegrino. La risposta di Scognamiglio. Nulla da fare. Si va così al riposo sul 2-0 per la Polisportiva. La ripresa si apre prima con un calcio di punizione del Costa da Malfi. Poi dalla parte opposta fa tutto bene Pellegrino e l'attacco per Margiotta. La conclusione è la rispinta di Scognamiglio. Il 3-0 arriva con Capozzoli che recupera questo buon pallone. Serve a Margiotta, poi la palla arriva nuovamente sui piedi di Capozzoli che supera il portiere e lo trafigge per il 3-0. Grande festa per il pubblico di Fede giallorossa. Dalla parte opposta il Costa da Malfi solamente nella finale prova a riaccendere il match. Su questo traversone c'è un tocco con le mani da parte di Chiariello. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e penalti dagli 11 metri. Lettieri supera Grieco. Nella finale però arriverà anche la poker con Cotello. Neo arrivato nella mercato di riparazione. Manda a voto due avversari e la conclusione è spettacolare per il definitivo 4-1. Grande festa anche per lui in campo nella ripresa così come Dentice. Festeggia così la formazione cilentana che ottiene i tre punti preziosissimi e raggiunge in vetta la classifica la Palmese. Grazie a tutti. Grazie a tutti.